Io sono anche un pochettino stanco in realtà di sentire Allegri si toglie la giacca, Allegri è arrabbiatissimo, siamo tutti arrabbiati ragazzi, siamo tutti arrabbiati per quello che è il rendimento della Juve della seconda parte di stagione, di quelli che sono i risultati della Juve della seconda parte di stagione, siamo tutti arrabbiati di queste cose qui, siamo tutti arrabbiati, però Allegri è quello che la parla è. Che la può gestire diversamente, che la può cambiare questa Juventus, o che la poteva cambiare in realtà ormai questa Juventus, perché purtroppo siamo arrivati alla fine, anzi forse per fortuna in realtà, siamo arrivati alla fine di questa stagione, per quelle che potevano essere le prospettive di questa stagione, anzi non le prospettive di questa stagione, Le prospettive di questo finale di stagione e quella di stasera è un pareggio che alla Juventus va benissimo, tra l'altro belle le immagini dei giocatori della Juve che vanno tutti a abbracciare De Rossi, chi ci ha giocati insieme e chi no, quindi bellissima questa immagine proprio di sport. In generale per De Rossi ho un'ammirazione da quando era giocatore a quando ora è allenatore, un uomo che mi è sempre piaciuto un sacco. Ma al di là di questo, questo pareggio per la Juve, per come si è messa l'annata, per quelli che sono gli obiettivi da raggiungere in questo finale di stagione, è oro che cola. Cioè veramente, io pensavo di perderla stasera, sta partita, sono sincero, sono onesto. Pensavo di perderla, non pensavo di tornare a casa come un punto. Quindi questo punto me lo tengo anche stretto perché è un punto preziosissimo per quella che è la classifica della Juventus. Se ne mancano altri quattro, la prossima giochiamo con la Salernetana, se poi le altre non le vincono tutte, sei in Champions League. Togliamoci questa roba qui, sei in Champions League. Come doveva finire sta partita? Questa è la domanda più importante da farsi. E' anche la domanda a cui è più difficile dare una risposta. Perché questa è stata una partita con talmente tanti episodi, ragazzi, che faccio fatica onestamente a dirvi doveva vincere la Juve, doveva vincere la Roma. Cioè alla fine vi dico che probabilmente è giusto il pareggio, perché ci sono state veramente tantissime occasioni da una parte e dall'altra. Miracoli da una parte e dall'altra. Pali della traversa di Christiansen, il palo di chiesa, l'occasione di Abram, l'occasione di Locatelli, la parata su Ken. Ci sono state veramente un milione di occasioni. Un minuto di occasioni da una parte e dall'altra. E credo che sia stata una partita anche molto strana, eh, ragazzi. Quella di stasera è stata una partita molto strana. È che è difficile vedere fare la Juventus. Parto dal presupposto che se fosse stato un tifoso totalmente neutrale, disinteressato a quello che poteva essere il risultato, la classifica eccetera eccetera, probabilmente mi sarei anche divertito. E anche tanto a vedere questa partita. Proprio perché ci sono state tante occasioni da una parte e dall'altra. Ed è una partita particolare. Perché da parte della Juventus questo tipo di approcci al match non te li aspetti. Solitamente la Juve è una squadra che, l'abbiamo visto, si preoccupa più di non fare gol. Ecco, io stasera ho visto due squadre, sia la Juve che la Roma, che avevano voglia di vincere questa partita. Anche a costo di andarlo a prendere gol, anche a costo di scoprirsi, anche a costo di prendere una ripartenza. Ed è stato molto strano, perché la Juventus invece queste cose solitamente non le fa. Nel secondo tempo, secondo me, la Juve ha avuto anche un buon approccio per come ritornate in campo subito dopo il fischio d'inizio. Tant'è che il palo di chiesa arriva proprio lì. E poi è venuta fuori la Roma. Poi è venuta fuori la Roma, c'è stata tanta intensità, tanta fisicità da parte di tutte e due le squadre. La Roma mi è sembrata comunque la squadra che la voleva vincere di più, perché la Juve per larghi tratti della gara è stata non bassa, ma passiva. Ed è quella la cosa che dà più fastidio, in assoluto, la passività con cui la Juventus va a fare la fase difensiva. Questa volontà sempre di portarsi anche gli avversari in area. Però io ho visto una Juve più viva del solito, più viva delle altre partite precedenti che abbiamo visto. E' una Juve che ha ballato, che ha rischiato, però ha rischiato anche di fare gol e di portarsi a casa i tre punti. Quindi, vi dico la verità, per quelle che erano le aspettative che avevo io questa sera, 5 maggio, questa maglia parla da sola, è andata forse anche meglio. Perché, ripeto, per me le partite che la Juventus ha cerchiato di rosso sul calendario sono quelle con la Salernitana e quelle con l'Atalanta. Sono queste due le gare che andranno a svoltare il destino della Juve. Questo punto è fondamentale per l'andamento del campionato, per la qualificazione Champions, per quello che è stato anche il pareggio del Bologna. E' tutto fondamentale per aver fermato la Roma. Praticamente nessuno di queste ha accelerato sulla zona Champions in generale. L'Inter ha perso, non ha pareggiato, anche se loro sono già in Champions, eccetera, eccetera. C'è stata, secondo me, una volontà da parte di Allegri di andare molto sugli esterni, di far andare molto sugli esterni la Roma. La Roma è andata tantissimo sugli esterni, è stata una volontà della Juventus di farli sfogare lì, no? Si è cercato di dire, ok, cerchiamo invece di difendere dentro l'area di rigore in generale. Questa è stata proprio una volontà della Juve. C'è stato un episodio clamoroso che è il giallo, non giallo, dato, non dato a UEA. Vi dico la verità, per me, se l'arbitro fischia quel fallo lì, in quella porzione di campo, in quel momento, con il giocatore ammonito, se non dà il giallo è un errore. Ma per me quello non è fallo. Quindi nel momento in cui fischi il fallo e non dà il giallo, stai facendo un errore. Quindi ci sta che dei rossi la Roma si arrabbi. Io capisco la rabbia, il nervosismo, la protesta da parte dei giallorossi. Perché nel momento in cui l'arbitro mi dice, guarda che per me quello è fallo, benissimo, il calciatore ammonito si prende il rosso. Allora capisco anche lo stadio che si arrabbia perché poi, giustamente, la Juventus sostituisce il giocatore per evitare di ritrovarsi comunque con un uomo in meno dopo che è stata graziata dal fischio. Poi per me non era da fischiare, ma nel momento in cui fischi, se poi non vai a ammonire, ci sta che tutto il contorno, tutto il contesto Roma, poi vada un pochino ad arrabbiarsi. Non mi è piaciuta tantissimo la volontà di sostituire sia Ken che Milik, di inserire sia Ken che Milik insieme, anche perché poi in realtà Ken è andato a fare praticamente l'esterno del 5-4-1. Quindi dopo la Juventus ha cercato una disposizione un po' più particolare che non ho apprezzato tantissimo. Ma perché? Perché in realtà Vlaovic ha fatto una brutta partita. Dopo essere stato mangiato da ciao, oggi Ndike e Llorente sono stati molto molto bravi su di lui. Tra l'altro Vlaovic nel primo tempo è sullo 0-0, forse ancora si è mangiato un'occasione abbastanza facile. Dopo poi la Roma è andata in vantaggio con un errore di gatti, una lettura forse sbagliata di Bremer su Dybala, un cambiaso che non ha accelerato tantissimo su Baldanzi, eccetera, eccetera. Tra l'altro Baldanzi contro di noi dopo l'1-1 nella partita con l'Empoli dello Stadium dove è iniziato il declino Juve. A quanto pare con noi è sempre molto molto attivo, ma Vlaovic non mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto invece Chiesa l'assist per il gol di Bremer. Bello lo stop di Chiesa, bello l'assist di Chiesa, bello lo stacco di Bremer che vale l'1-1. e poi tante altre giocate di Chiesa di qualità. Quindi abbiamo un pochettino ritrovato Federico Chiesa e questa è un'ottima notizia per queste ultime partite della stagione. Ripeto, le prossime due partite della Juventus sono indispensabili. Tre punti con la Salernitana più la finale di Coppa Italia. La maggior ragione oggi è che non c'era Ildiz, forse anche quello ha un po' contribuito a far avere a Chiesa la testa un po' più libera. Non lo so, forse sì, forse no. Ormai in questo momento è difficile fare la conta sulla Juventus o valutare la Juventus. Perché anche una partita del genere non me l'aspettavo. Una partita così spezzata in cui la Juventus rischiava così tanto pur di andare a farlo, poi andava a farlo pur di rischiare. Non sono atteggiamenti da Juve, però forse sono atteggiamenti da Juve che ormai voleva chiudere la pratica questa sera a Roma senza esserci riuscita. Ragazzi, è ovvio che 14 punti in 14 partite sono uno schifo. Non trovo un altro modo di valutarlo se non schifo, perché oggettivamente il rendimento della Juve è inqualificabile. Anzi, è qualificabilissimo, è tendente al brutto. Però in questa situazione qui e con la Roma che doveva necessariamente vincere veramente per essere più tranquilla, io questo pari me lo tengo stretto in ottica, finiamo la stagione, poi mettiamo un punto e ricominciamo. Poi è ovvio che mi sarebbe piaciuto prendere i tre punti stasera, chiudere la qualificazione, eccetera, eccetera. Forse servirà anche un pochettino a tenere sull'attenti in vista Salernitana, perché ecco, la Salernitana tu non la puoi sbagliare. Cioè tu non esiste che vada a sbagliarmi la partita con la Salernitana già retrocessa. Cioè quella è una partita che vale più della finale di Coppa Italia, perché se tu non vinci con la Salernitana, poi c'hai il Bologna e il Monza e rischi veramente di farti male dopo esserti messo comunque in una situazione positiva e non per merito tuo, ma perché gli altri dietro hanno iniziato a rallentare un pochettino. Quindi se tu vinci la partita con la Salernitana, questo pareggio è fondamentale. Se tu non vinci la partita con la Salernitana, sei andato veramente a metterti nello sterco da solo con le tue mani. Quindi un pareggio da vedere come bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Io stasera per quello che è l'andamento della Juventus nelle ultime 14 partite, anzi i 13 prima di questo, lo vedo come un bicchiere mezzo pieno, perché stasera credo che la Juventus abbia messo forse la più seria ipoteca possibile sulla qualificazione Champions. Io partivo prevenuto in negativo, mi aspettavo di perdere stasera, invece la Juventus almeno un punto lo porta a casa, eccetera, eccetera. Certo è che questo ennesimo sfogo sul finale di Allegri mi fa capire che tutto c'è tranne con un ambiente sereno, rilassato, tranquillo. No, la Juventus ha una polveriera pronta ad esplodere, mancano 3-4 punti, 4 punti per la qualificazione Champions, cerchiamo di farne 3 con la Salernitana e poi magari gli altri dietro iniziano un po' a rallentare e noi siamo a posto così. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti e forza Juventus. Ciao ragazzi.